E la macchina che stacca è molto veloce all'esterno, MyNameS, mentre c'è stata la dottora di Lima dei Greppi. Numero 5, Mariemma Spin, squalificato. Tanto InternetB va su MyName, è rimasto risposto anche il National Lindi, 214 e Internet che passa a condurre. Internet, MyName, allargo Morgana, poi Link di Lippi, 400 in 29 e mezzo. Correnti che stanno completando la prima curva con InternetB a scandire la cadenza, MyName di Rincalz. Primi 600 metri passati in 45 e mezzo. Siamo a metà della retta opposta alle tribune, Internet, MyName, Morgana, Link di Lippi e poi Nirvana L, gli 800 in 1 e 1. Prova a farsi avanti Link di Lippi, quantomeno si scosta dallo steccato, per il momento non viene un granché. Adesso sta producendo il suo sforzo, ma è anticipato da Morgan of Brown. Intanto il chilometro è 1,16 e mezzo, Internet al comando a metà della piegata finale. Lo segue MyName, allargo Morgana, terza per Link di Lippi. Si va verso i tre quarti, l'ima dei grippi, squalificato. Le quarti che InternetB passa in 1,31 all'esterno, Morgana che prova l'attacco. Morgana of Brown che incalza Internet, il quale cerca di difendersi lungo la corda. Fra i due prova MyName, Morgana of Brown che attacca ancora a 150 dal palo. Morgana a sopravanza Internet, Morgana of Brown in vantaggio. Morgana che viene a concludere metà davanti a Internet. Poi Nirvana L, National India e MyName, Morgana of Brown. Due minuti sul mio cronometro, 2,83, la quota al totalizzatore, la media di Antonio l'1,15. Federico Bongiovanni in salchi, il training di Maurizio Pieve che raddoppia nelle vesti di trainer. E raddoppia anche con il training di Maurizio Pieve la scuderia The Show.